ciao a tutti bentornati in un nuovo video vlogmas allora questo è uno perché è quello del bimbo francesco e poi c'abbiamo un altro apri la prima casellina Gesco fai fermo mamma Gesco fermo vai è aperta uh l'ho vetto quando hai due anni lo puoi mangiare dai due anni in poi adesso no lascia no francesco no vai francesco veloce facciamo a vedere che le cose del bimbo francesco abbiamo il nostro eccolo abbiamo scelto il link teddy apriamo la casella numero uno francesco triste manine monellino monellino dov'è fulmine dov'è fulmine to to' il cellulare di papà ti è la caramella apri 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 come sempre c'è italia c'è scola italia e fulmine ma sante il diavolo eccola dai no sembra uguale a quelle del bambino si ha bel gusto bene per questo video primo vlogmas col piccolino di un anno e tre mesi e tutto noi ci vediamo domani al vlogmas numero 2 e ciao francesco e ciao e ciao ciao si vabbè ciao 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 ciao